All'interno del Luigi Curto di Polla potrebbe nascere un'area dedicata alle donne vittime di violenza e quanto spera il Comitato Senonoraquando Vallodidiano, supportato dalla sensibilità della Banca Montepruno. I presupposti ci sono, la Regione Campania ha infatti recepito le linee guida nazionali che le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, aventi al loro interno un pronto soccorso, dovranno seguire nel fornire assistenza alle donne vittime di violenza, attraverso un percorso adeguato nel trattare le conseguenze fisiche e psicologiche che i maltrattamenti maschili producono sulla loro salute. La Presidente del Comitato, l'Avvocato Rosi Pepe, ha quindi in questi giorni riformulato al Commissario straordinario dell'Asl di Salerno, il Dottor Mario Ierbolino, e al Direttore Sanitario del Luigi Curto, il Dottor Luigi Mandia, la richiesta di individuare all'interno del Presidio ospedaliero di Polla un'apposita area preposta ad assolvere alle finalità del percorso, che consta di sei punti fondamentali. E uno di questi prevede che la donna arrivata al triage e presa in carico dovrà essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza. Questo sarà il luogo di ascolto e di prima accoglienza, dove verrà visitata e sottoposta ad accertamenti clinici anche per un'eventuale denuncia querela. Il Comitato, inoltre di nuovo la richiesta ai vertici, forte della disponibilità assicurata già dallo scorso anno dal Direttore Generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, a provvedere a quanto occorre non solo per la realizzazione della sala, ma anche per i correlati arredi e suppellettili. Interpellato nuovamente, fanno sapere dal Comitato, il Direttore Albanese ha riconfermato anche di recente il finanziamento richiesto per l'allestimento dell'area protetta. Il Comitato, dunque, attende ora fiducioso un riscontro positivo nella speranza, sottolinea, che non si perda l'occasione per dare concreta fattività ad una collaborazione di intendi tra soggetti privati, ideatori e finanziatori e istituzioni pubbliche preposte al soccorso e all'assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza di genere.